Come fai a competere in un mondo dove il business è mcdonaldizzato, col costo il doppio o il triplo, di quanto costa comprarlo al supermercato? Dura due giorni al massimo, quando te lo vendono ti dicono guarda noi non sappiamo che sapore abbia, a volte un po' più aspro, a volte un po' più dolce, dipende dalle nostre arance. Parlando a quel pubblico di persone che è interessata ad avere dei prodotti veri, che magari non sono perfetti, che magari non sono sempre uguali, ma sono veri, imperfettamente veri e imperfettamente qualitativi.